Il tema che ha guidato i lavori di questa mattina del workshop qui alla CSR Manager Network, consumo responsabile e produzione sostenibile, sono le stesse facce, le facce diverse di una medaglia che va a comporsi, sono speculari. Il consumatore ha diritti che deve conoscere e ha doveri e responsabilità che deve esercitare e è scopo congiunto delle imprese che producono, erogano servizi e delle associazioni dei consumatori che tutelano i consumatori, di parlare, informare, educare il consumatore ad agire consapevolmente nelle scelte di acquisto. Ovviamente questo comporta anche la responsabilità dell'impresa a produrre sostenibilmente, dalla filiera al modo di informare, comunicare, a come usare gli spazi pubblicitari. Quindi un ruolo sociale delle imprese forte e un dialogo e una contaminazione facendo rete con le associazioni dei consumatori, ma non solo. L'Agenda 2030 è il cappello che unisce tutto.